Zeman Foggia è finita, la quarta esperienza del tecnico boemo sulla panchina dei rossoneri si è chiusa dopo una sola stagione ed un'eliminazione playoff per la promozione in B. Nelle scorse ore il presidente Nicola Canonico ha comunicato la chiusura del rapporto con l'allenatore in una conferenza stampa nella sala FESC dello stadio Zaccheria. Finisce una lunga storia d'amore tra il mister di Praga e i satanelli che separano, come detto, per la quarta volta, la prima nel lontano 1987. Via anche il direttore sportivo Peppino Pavone. Il Foggia era arrivato settimo nel girone C di Serie C qualificandosi per il playoff. Al primo turno e al secondo ha eliminato rispettivamente la Turris vincendo 2-0 allo Zaccheria e l'Avellino battuto e rimonta 2-1 al partenio Lombardi. Il cammino verso la promozione è stato però interrotto dalla Virtustentella agli ottavi di finale. Non è bastato il 2-2 complessivo in quanto i Liguri godevano di un miglior piazzamento in classifica a quarto posto nel girone B e potevano contare su due risultati su tre per passare il turno. Valzer di Panchini che vede protagonista anche la Virtus Francavilla. La società pugliese, dopo l'addio di Roberto Taurino passato appunto all'Avellino, riparte da Antonio Calabro. Il trainer ritorna alla corte della società guidata dal presidente Magri, siglando un biennale. Il Taranto punta tutto su Nicola Dioniso, il dirigente ilpino dopo l'avventura al Brindisi torna in Lega Pro. Avellino, Benevento e Cavese, le avventure di Dioniso nel campionato di terza divisione. La Juve Stabia è pronta ad abbracciare Bruno Caneo. Ha avuto un buon esito all'incontro tra l'allenatore e la società campana con quest'ultimo ormai ai dettagli per affidare la successione della panchina gestita nell'ultimo periodo da Novellino. Superata dunque la concorrenza del Foggia con il tecnico di Alghero, che potrebbe spostarsi solo di qualche chilometro da Torre del Greco, città nella quale allenato quest'anno.